il giovino è come a campagna prende se faccia castagna l'avevo detto e l'avevo fatto prende se faccia alle paparazzi quando i paparazzi vanno alla marina prende se faccia tutta la collina ma se non sa chi ma ancora prende se faccia alla montagna eh ma no no no! e provi no com'è è male Ehi carmine cosa stai facendo? Carmine cosa stai facendo? io l'ho letto e sto facendo un pezzo di mezzo non mi fallo che tu già lo vedi a te ok non cacciare che domeruccio